Beh, guarda, te lo ripeto, Khalil è un giocatore importante per noi. Lui, secondo me, dietro la punta riesce ancora a dare molto di più. È normale che da questo giocatore noi ci aspettiamo tanto, al pubblico, tutti si aspettano i gol. Per oggi ha fatto un grandissimo lavoro. Siamo passati anche con la difesa 3, Ferrari che comunque si aveva sempre giocato, oggi è stato in panchina. Lo spirito di gruppo è questo, le partite non si vincono soltanto con la tecnica, ma anche con la voglia. Sono contento non del risultato, sarebbe il contrario, ma sono contento della prestazione, di personalità della squadra. Abbiamo tenuto testa una squadra che solo, secondo me, psicologicamente è un po' al di sotto, però c'è giocatori importanti. Mancano 6 partite, 6 partite importanti dove ci dobbiamo salvare e 6 partite dove personalmente voglio cercare di fare il meglio possibile. Speriamo che non dovremmo aspettare alcun altra festa importante, per aspettare la prossima vittoria. Abbiamo i conti a Natale, i conti a Pasqua, chissà la prossima quando sarà. Speriamo presto. A tutte le battute. E' un po' di tempo, non vincevamo e quindi c'era assoluta necessità, come avevamo detto anche ieri in conferenza. Quindi mi sembra che sia andato tutto formato abbastanza bene. In un modo o nell'altro siamo riusciti a ottenere questa vittoria che per me era fondamentale, dopo comunque un periodo abbastanza lungo dove non riusciamo a ottenere la vittoria e quindi ci servivano come il pane questi tre punti.